Lorenzo Cherubini in arte giovanotti ha indossato i panni di prof per un giorno in una follatissima olamagna dell'università di Firenze. Parlando di lavoro ha parlato anche dei lavoratori non pagati dicendo che ha comunque un'esperienza e che ci si porta dietro a qualcosa ricordando quando anche lui faceva il volontario alle sagre. Poi lui ha scritto di essere stato frainteso ma il quesito rimane comunque valido. È giusto accettare di lavorare gratis per imparare oppure è eticamente sbagliato approfittare del lavoro altrui senza remunerarlo? Allora secondo me dipende un attimo da dove ci si trova e cosa bisogna imparare. Per quanto mi riguarda per la mia esperienza personale sono stata in un ufficio per mesi non retribuita ma mi è servito per coltivare il mio interesse per quello che ho studiato quindi magari ci rimani male ma è tutta esperienza. In lavori di altro genere se non vieni retribuito dopo un tot di tempo e vieni appunto sfruttato è corretto a un certo punto ricevere il denaro corretto. Per lavori di altro genere che cosa intendi? Quali lavori? Per lavori di altro genere penso soprattutto manuali perché per quanto riguarda lo studio, per quanto riguarda conoscenze scientifiche, culturali è anche giusto impegnare il proprio tempo anche in modo non retribuito insomma. Quindi la pensi un po' come giovanotti? Sì, penso di sì. Ma secondo me non esiste, uno se va a lavorare deve essere retribuito ma cosa vuol dire lavorare gratis? Non ha mai lavorato gratis nessuno, secondo me quando c'erano gli schiavi in Egitto. Giovanotti dice serve per fare esperienza ti lascia qualcosa. Ma Giovanotti ormai vive in una dimensione tutta sua per me non è un leader opinionista, è uno così. Certo no, è un cantautore che ha espresso comunque la sua opinione. Però è perché non lavora lui gratis, non lavora lui gratis. Infatti qualcuno gli ha suggerito vendito i dischi gratis e poi vediamo. Ma non è un fatto di polemia, proprio perché anche un ragazzo gioco va a lavorare e lo devi pagare. Ma non esiste. Ok, quindi contrario e non sei assolutamente d'accordo con lui, con Giovanotti. Anche se io sono di quella parte politica, però secondo me stavolta... Ha toppato. In linea di massima secondo me è abbastanza giusto, cioè basta che il datore del lavoro non ne profitti. Cioè se è un lavoro breve che porta veramente esperienza sì, se invece è una forma di lavoro non pagato allora no, ma se no sì. Quindi se tu fossi un ragazzo di 18 anni e ti proponessero di lavorare gratis per un po' di tempo per imparare il lavoro, tu comunque accetteresti? Sì, direi di sì. Non per tantissimo, ma per un periodo sì sicuramente. Tu sei titolare di qualche attività? Io ho un negozio qua a Voghera. Infatti ho avuto degli stegisti della squadra Santa Chiara che sono venuti a imparare da me. Come ti sei trovato con loro? Hai dovuto insegnarli ovviamente a fare il lavoro immagino? Sì, sì, sì. Con alcuni mi sono trovato bene, con altri un po' meno, in linea di massima bene. Cioè secondo me è un'esperienza che li introduce al mondo del lavoro, anche se non magari specificatamente nel mio lavoro. Comunque imparano cosa vuol dire lavoro, perché magari un ragazzo di 15 anni non lo sa ancora. Quindi è un esca montaggio sia per l'attività, che ha la possibilità di avere un dipendente senza doverlo pagare, sia per il ragazzo che impara a lavorare. Tu dici questo, alla fine può servire. Può servire, ti dirò. Per l'attività ce ne pro e contro, perché comunque è una persona da seguire. Però sicuramente va a vantaggio di entrambi.